Buona serata a tutti. Un fronte perturbato nord-atlantico sta penetrando nelle regioni settentrionali e nelle prossime ore si spingerà verso sud-est, pertanto le temperature inizieranno a diminuire, riportandosi verso quelle che sono le medie del periodo. Il passaggio del fronte favorirà un'oltre attività convettiva, che si svilupperà debolmente già dalle prime ore del mattino, ma soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Ma sarà un passaggio veloce, tant'è che domenica tornerà alla stabilità atmosferica, sebbene in un contesto termico di caldo sopportabile. In Abruzzo è giornata che sin dal mattino potrebbe presentarsi vivace, con possibili scrosci di pioggia, ma sarà nel pomeriggio sera che i fenomeni saranno più estesi ed intensi, non solo sui monti ma anche nelle aree collinare e costiere. La ventilazione sarà debole o moderata da nord ed il mare poco mosso. Le temperature minime di questa notte comprese tra 17 e 25 gradi e le massime di domani in netta diminuzione comprese tra 27 e 33 gradi. È tutto per il meteo appuntamento a domani mattina.